Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Ho deciso di realizzare questo tutorial principalmente per i miei allievi delle classi prime, per spiegare loro le funzionalità e le potenzialità di questa fantastica tecnologia che si chiama Soundslice, che ho introdotto da alcuni anni all'interno della mia didattica. Però penso che questo tutorial possa essere utile in generale per chi si occupa di didattica musicale o per chi ha intrapreso da poco lo studio di uno strumento. Però prima di trasferirci davanti alla schermata del computer, se siete amanti delle percussioni, se vi occupate di didattica musicale o se avete da poco intrapreso lo studio di uno strumento a percussione, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, lasciatemi un commento, ne sarò molto felice. Ma non perdiamoci in chiacchiere, trasferiamoci davanti al computer. Eccoci qui davanti alla schermata del computer, apriamo il nostro browser, poiché Soundslice è possibile raggiungerlo tramite computer, tramite tablet, tramite smartphone. Partiamo dal mio sito carloferretti.it. Se andate qui su Aria Allievi ci trovate parecchie risorse didattiche. Vi consiglio di darci un'occhiata. Andiamo ad esempio su esercizio dei tastieri. Vediamo, possiamo prendere... prendiamo il 37, è carino. E eccoci qui dentro il nostro esercizio. Ve lo faccio ascoltare, vedete che succede. Ok, la cosa è molto semplice e intuitiva. Di base c'è questo video che ho realizzato io, in sync con la partitura. Come possiamo utilizzare questa tecnologia per studiare a casa? Dunque, dico sempre ai miei allievi, oltre al classico studio con la parte cartacea, potete provare a leggere direttamente l'esercizio dallo schermo del computer o del tablet. Il telefono forse risulta troppo troppo piccolo. Quindi la prima cosa da fare è ottimizzare la visualizzazione, cioè fare in modo che possiate leggere bene. Quindi sicuramente potete chiudere la barra a sinistra. Poi potete, tramite questo cursore, spostare questo cursore per ringrandire o rimpicciolire il video. Magari alcuni passaggi non vi sono chiari, magari qualcosa di tecnicamente più difficile, potete vederlo bene nel video. Per quanto riguarda invece la partitura, se andate qui in basso a destra, in questi tre puntini, tramite questo cursore a livello di zoom potete ingrandire o rimpicciolire la parte. Ci sono diverse opzioni di visualizzazione, ad esempio qui si può fare anche tutto su una linea con la barra che scorre, io vi consiglio di lasciarla su automatico perché lui in genere ottimizza la visione in base dello schermo dal quale state vedendo la slice. Quindi fatta questa cosa della visualizzazione dello schermo messa in modo ottimale, passiamo a vedere le funzioni più pratiche. Una delle funzioni più interessanti secondo me è questa qui, cliccando sul più o il meno si può abbassare la velocità dell'esercizio. Ascoltiamo. Vedete, è stato mantenuto il sync tra l'audio e il video, l'esercizio è più lento e la tonalità rimane la stessa. Ovviamente la qualità audio è un pochino peggiora, quindi se dovete utilizzare questa funzione io vi consiglio di cliccare qui su il tasto synth e lui vi farà ascoltare un suono, diciamo, finto di vibrafono, sentiamo. Chiaramente è più brutto, però se io lo rallento anche di parecchio, sentite il suono è sempre lo stesso. Un'altra cosa che potete fare a questo punto è mettere il metronomo cliccando qui, sentiamo. Regoliamo il volume del metronomo o del vibrafono da questa schermata. Ve lo volete più basso o più alto. Poi un'altra funzione molto interessante è la possibilità di fare dei loop. Che vuol dire, se io seleziono, ad esempio, le prime due battute e mando a play, lui vi ripeterà in continuazione queste due battute. Tramite questi tre puntini potete scegliere se, prima di mandare a play, lui può fare un conteggio di metronomo. Adesso rimettiamolo un pochino più veloce, se no diventa troppo lungo. Sentite che succede. Quindi, prima di cominciare il loop, lui vi fa ascoltare un conteggio di metronomo. Altra funzione interessante, se volete studiare un pezzettino, premendo qui su focus on this, tutta la partitura scompare e rimangono solamente le battute che avete scelto per il loop. Ok, se volete tornare alla versione della partitura, cliccate lì. Ok, di base le funzioni da utilizzare sono queste qui. Vi volevo far vedere un'altra cosa. Cliccando qui sul video, ritornate sulla parte del video. Ovviamente tutte queste cose che vi ho detto potete farle anche con il video, però magari se lo fate con il Synth la parte è più precisa. Un'altra cosa che vi volevo far vedere, torniamo sul mio sito, andiamo sempre su area allievi. Ad esempio su brani e parti d'orchestra, perché vi volevo far vedere un'altra cosa interessante che nella slice di prima non c'era. Clicchiamo qui, per esempio, su viva la vita. Allora, questa slice è un po' particolare per tutte le slice di musica d'insieme. Infatti, troverete qui il video, sembra all'inizio lo stesso, quindi un solo video. Però qui nella partitura ci sono più pentagrammi, perché questa è una partitura completa di tutte le parti. Come dobbiamo comportarci in questo caso? Dunque, se clicchiamo qui dove è scritto totale, dove prima era scritto video, in realtà il video erano solo. Qui i video sono più di uno. Vedete, c'è la parte di percussioni, marimba 3, 2, 1, vibrafono, glockspiel. E questo totale, che è questo che c'è adesso, che è un video che ho messo di tutte quante le parti, ho fatto un mix per avere un'idea del pezzo. Però mettiamo il caso che voi vogliate studiare la parte di marimba 3, ad esempio. Quindi clicchiamo qui su marimba 3 e vedete che qui sul video abbiamo quindi la parte della marimba 3. Però io voglio andare anche a visualizzarla, la parte della marimba 3. Poiché suonare così con tutti questi pentagrammi non è proprio il massimo. Quindi clicco sui tre puntini, vado su marimba 3, clicco su focus e ecco qui che mi esce la parte di marimba 3. Ascoltiamo un attimo. Ok? Facciamo un altro esempio, mettiamo il caso che voglio andare a studiare la parte del vibrafono. Clicco qui per cambiare il video in vibrafono, solo di tre puntini, clicco su focus, vibrafono, ecco qui il video con la parte. Sentiamo. Ecco qui, vedete che il funzionamento è molto intuitivo, valgono tutte le cose che ho detto per l'altra slice. Vi volevo far vedere solamente questa possibilità di avere più video e più pentagrammi all'interno della slice. Ok, io credo di aver detto tutto, questo video finisce qui. Mi raccomando, come ho detto all'inizio del video, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace se vi è piaciuto questo tutorial e ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, ricordate sempre il nostro motto fighissimo. Ciao.